il porcone dello sbocco ragazzi c'è un sacco di gente qui, è bellissimo salutate che siete in diretta salutiamo, siamo in diretta dal barbershop Mimmo Norman abbiamo fatto questo evento in collaborazione a Old Smokers Mimmo Norman salutiamo Ronzo, Erika, ciao amici non si vede niente qui eh ragazzi salutate la diretta ciao ciao naturalmente continueremo l'attuale regime di favoritismi ovvio no, perché prima ti non aspetto ragazzi una fa favorito e favorito io sono pagato, sono pagato personalmente da Mimmo Norman come testimonial tutti i dati da Mimmo Norman siamo andati da Mimmo Norman siamo testimonial del barbershop ha le mie capelli che lo può sono i miei come ti distruite l'Italia è un attimo non so nello c'è non bello ma è proprio che c'è sempre ma ci sape ma ci sape ma vediamo che ti mette la mia anche se non volete noi lo vediamo che ti ha lavorato la diretta e noi lo vediamo è lui no, ehi no, non devi lavorare, capito? solo io, tu no tu no tu che c'hai delle pericolazioni non devi lavorare non devi lavorare non devi lavorare e se no come parla di me non parla di me senti, non c'ho la pericolazione non devi ricargli ragazzi se venite se ci raggiungete vi diamo lo sconto lo sconto del 20% ma riprende la diretta no 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 grazie a tutti Feliciano dove sei Feliciano? Ti aspettavamo qua, ti aspettavamo Ti aspettavamo, ti aspettavamo Ti aspettavamo Ti aspettavamo Grazie a tutti. 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 a tutti.